Cari amici questa è un'edizione straordinaria. Vi presenterò dei documenti inediti che aprono dei retroscena inquietanti riguardo al rapimento di Silvia Romano e riguardo al reclutamento di questi ragazzi, di questi fantomatici volontari. Dopo aver analizzato questi documenti la domanda sorge spontanea. Anche Silvia avrà viaggiato con la tariffa Cooperanti offerta da una famosa pizzeria di Malindi che collaborava con Africa Milele? Sì, proprio Africa Milele. La stessa Onlus che ha inviato Silvia a Chacama senza alcuna garanzia. La stessa Onlus che trasformava viaggiatori in volontari, anzi in corrieri che trasportavano bagagli aggiuntivi da 23 kg per conto di questa famosa pizzeria. Anche Silvia avrà viaggiato con un bagaglio aggiuntivo per la pizzeria? Inoltre, grazie all'aiuto di una persona che ha linkato nei commenti del mio ultimo video le pagine del sito di Africa Milele che erano state cancellate, oggi possiamo fare qualche riflessione in più. Come al solito, nella descrizione di questo video trovate i link alle fonti. Nella pagina di presentazione del sito di Africa Milele, la pagina Chi Siamo, non troviamo né il bilancio né la struttura associativa e nemmeno lo statuto. Progetti? Eh, sicuramente qualche cosa avranno anche fatto dopo. Visto che prima della costituzione di Africa Milele, la presidente era già stata a Malindi ben sette volte e poi ci è tornata in luna di miele. L'amore per Ciacama è sicuramente sbocciato a Malindi, magari in spiaggia o chissà dove. Certo, qualche progettino l'avranno anche fatto. Infatti, dalla loro pagina Facebook risultava la costruzione di una ludoteca nella savana per cui sono stati spesi ben 630 euro. E questa è una grande opera che avrà sicuramente risolto tutti i problemi della popolazione. Nel sito di Africa Milele emergono riferimenti al sito di Caribou Village, che è o era una hollus distresa con sede legale a Milano e con uffici a Malindi, che avrebbe dovuto trasformare Ciacama e i suoi 2500 abitanti, ma non erano 18.000, in un centro di eccellenza con l'ambizioso obiettivo dichiarato di portare la comunità di Ciacama alla completa autonomia in 5 anni a partire dal 2013. I 5 anni sono passati e del Caribou Village nessuna traccia, soprattutto per il turismo esotico, tanto che i riferimenti all'interno del sito non lasciano spazio a tante interpretazioni. Niente di anomalo per carità, ma anche in questo caso non si capiscono molte cose, a partire dai bilanci non pubblicati. Poi per il resto sembra un'organizzazione ben strutturata, a parte il fatto che dopo 5 anni Ciacama non sembra affatto cambiata, mentre di questa associazione non c'è più nessuna traccia, come non c'è più nessuna traccia dei bambini adottati, o di quelle bellissime iniziative citate nei link del sito. Ma adesso analizziamo questi documenti che aprono scenari molto ambigui circa il reclutamento di questi volontari e retroscena molto molto sospetti, circa i biglietti scontati tariffa cooperanti messi a disposizione grazie a questa convenzione della pizzeria di Malindi con cui Africa Milele collaborava in cambio del trasporto di un bagaglio aggiuntivo del peso di 23 kg da consegnare direttamente alla pizzeria. E la domanda è, anche Silvia Romano ha trasportato questo bagaglio aggiuntivo consegnandolo alla pizzeria? E se questo fosse vero, che cosa conteneva quel bagaglio? Acquisto biglietto aereo cooperante di Africa Milele Onlus Cari amici, avete già acquistato il vostro biglietto per il Kenya? Ancora no! E se vi dicessi che c'è la possibilità di acquistare un biglietto di volo con la formula cooperanti, ovvero volontari di una Onlus, garantendovi la possibilità di imbarcare non solo il vostro bagaglio di diritto come disposto da regolamento della compagnia aerea, ma anche una valigia in più o solo kg in più? Interessante, vero? Ora vi dirò in dettaglio come fare per ottenere una quotazione con tariffa cooperanti. Voi riceverete il prezzo del volo e potrete valutare se la tariffa è vantaggiosa o no, considerando che con Etiopian avrete diritto a un bagaglio in più di 23 kg, quindi 23 più 23 più 23, ovvero 69 kg, e con Turkish avrete diritto a 10 kg in più sul vostro bagaglio, quindi 30 più 10, ovvero 40 kg. Perché vi propongo la tariffa cooperanti e cosa vi chiedo per me? Ogni volta che ho medicine o altro da far partire dall'Italia con destinazione Kenya, la questione è sempre la stessa, ovvero la poca disponibilità di kg nel proprio bagaglio da poter destinare agli aiuti solidali. Io vi propongo di richiedere all'agenzia la quotazione per i vostri biglietti per il Kenya e qualora la tariffa sarà da voi accettata, vi chiedo di destinare interamente il terzo bagaglio riconosciuto in qualità di volontario a noi del Karen Blixen, così da far arrivare in medicinali body per neonati e altro alle associazioni con le quali collaboriamo. Ringrazio anticipatamente Africa Milele Onlus per la collaborazione. La vostra richiesta di tariffa cooperanti sarà inviata per loro conto all'agenzia di biglietteria. Successivamente Africa Milele Onlus vi invierà la lettera che accompagnerà i vostri bagagli e vi identificherà come collaboratore volontario della Onlus stessa. Infine il Karen Blixen, bar e ristorante in Malindi, ritirerà il contenuto del terzo bagaglio. Ringrazio tutti voi cari amici perché senza di voi noi potremmo fare ben poco. Cosa fare per richiedere una quotazione cooperanti? Contattatemi in privato e vi darò tutti i dettagli. Ma se questo non bastasse, sul vecchio sito della Caribù c'è una pagina che spiega molto bene come venivano reclutati i volontari. Cari amici, vediamo come si diventava volontario della Caribù. Per prima cosa bisogna diventare amico caribù. La tessera annuale costa 75 euro e si chiama amico caribù. 1. Bisogna pagarsi il volo aereo per Mombasa e il ritorno. Più tasse aereo portuali, di solito incluse nel biglietto. 2. Euro 120 complessivi andate e ritorno per uso taxi Mombasa-Malindi-Mombasa in arrivo e partenza. Il costo viene diviso in parti uguali fra i passeggeri trasportati. 3. A Ciacama, dal mese di gennaio 2013 in poi, l'alloggio costa 10 euro al giorno per il vitto. Ognuno può farsi la spesa per conto suo. 4. Chi volesse invece fermarsi anche a Malindi a dormire, esistono numerose possibilità di alloggio con prezzi che variano da 10 euro a 40 euro giornaliere. 4. Importante. 5. Da luglio 2012 sono disponibili gli alloggi a Ciacama. Sono dotati di acqua corrente, di energia elettrica e di una piccola mensa. Questo rende il soggiorno veramente esclusivo e permette di vivere l'esperienza in maniera completa e a stretto contatto con la gente del villaggio. Il nuovo ciclo partirà il 2 giugno 2013 e finirà il 30 aprile 2014, per cui tutti gli interessati possono cominciare a prenotarsi. Infatti, il numero limite di volontari per settimana è di 12 persone. È evidente che si tratta di una buona occasione per ottenere uno sconto, viaggiando con la tariffa da cooperante o da volontario, forse anche senza esserlo. Inoltre, è curioso che sul sito della Caribou fosse scritto chiaramente massimo 12 volontari a settimana. Come dire, affrettatevi perché i posti sono limitati. Ma concentriamoci sul documento del bar pizzeria. Da questa comunicazione emerge chiaramente che Africa Milele collaborava con questa pizzeria solo rilasciando la dichiarazione al viaggiatore, che come volontario aveva diritto ad uno sconto e ad un bagaglio supplementare di 23 kg, che però non doveva essere consegnato ad una Onlus Partner, ma bensì direttamente al bar pizzeria. La cosa curiosa è che il primo documento che abbiamo letto è stato pubblicato dalla più famosa pizzeria di Malindi, citata anche su TripAdvisor, che non è una Onlus che è gnota. E questo documento, che in realtà è un comunicato, è rivolto a chi? Volontari e cooperanti? Ebbene, a me da ignorante in materia, sembra che sia rivolto a normali viaggiatori, turisti e villeggianti, che probabilmente conosceranno bene Malindi, che sono clienti o amici della pizzeria, bar, ristorante, tour operator Karen Blixen, o abitué di Malindi, come Lilian Sora, presidente di Africa Milele, prima di inventarsi Africa Milele, che a Malindi andava a mangiare la pizza a quattro stagioni dalla sua amica Tiziana, con il marito keniano conosciuto tra una pizza e l'altra, almeno a quanto riportava un commento di male lingue sul profilo Facebook di Africa Milele. Il Karen Blixen Bar & Restaurant di Malindi, tappa obbligata per molti villeggianti, prima di concludere la serata, alla famosa discoteca Patapata, frequentata da donnine facili che giungono da tutto il Kenya. Inoltre alcuni volontari sul web hanno raccontato di aver avuto esperienze non esattamente edificanti con delle onlus proprio di Malindi, ma la cosa lampante ed inequivocabile è che questa pizzeria reclutava dei veri e propri corrieri, che poi Africa Milele certificava come volontari, intascando, tra le altre cose, anche i costi per la tessera sociale. Poi non è importante se nei 23 kg aggiuntivi c'erano medicine, assorbenti, body per i neonati, prosciutto crudo, parmigiano, salami e chissà cos'altro. Body ai neonati africani, assorbenti. Signori, scusate, io ho girato un po', solo un po', l'Africa. Ho chiesto a tutti i miei colleghi che conoscono l'Africa in lungo e in largo. Ci sentiamo tutti un po' presi per i fondelli se qualcuno ci racconta di body assorbenti e latte Nestlé distribuito negli ospedali. Nessuno che abbia girato l'Africa ha mai visto un neonato di una zona rurale con un body. Forse nelle zone in cui l'inverno è più rigido si usano vestitini e cappellini di lana rigorosamente di provenienza cinese o sudafricana, ma per il resto bambini e donne usano stracci che lavano e riusano, evitando di inquinare le foreste tropicali con assorbenti in monouso. E a questo punto viene spontaneo chiedersi come mai Africa Milele non faccia alcun cenno della sua partnership con la pizzeria di Malindi né sul suo sito né sulla sua pagina Facebook. Sul sito di Africa Milele c'era scritto che durante le vacanze estive 2018 partirono 23 volontari. Si presume con 23 kg ciascuno destinati alla pizzeria, cioè circa 5 quintali. Di che cosa? 500 kg? Di assorbenti e body e medicine? Su signori, non è credibile. 500 kg sono una quantità enorme. E all'aeroporto internazionale di Mombasa o a quello di Malindi che sarà una pista, come in tutti gli aeroporti africani, bastano 10 dollari di mancia per far passare ai controlli doganali anche un elefante senza che sia visto da nessuno. Poi chissà quante altre onlus utilizzano lo stesso sistema per trasportare beni senza i necessari controlli doganali o magari senza la fattura o il documento di trasporto. Fermo restando la buona fede sui materiali trasportati. Quando mi riferisco ad una riforma del settore mi riferisco soprattutto alla mancanza seria di controlli che dovrebbero essere le stesse ONG e onlus a sollecitare, battendosi per una maggiore trasparenza per evitare che qualche furbastro infici il buon nome di tutto il settore. Mentre il silenzio, si sa, a volte può essere inteso come una forma di complicità e si sa, con il silenzio, tutto passa. Ora, con tutta la buona volontà e senza malizia alcuna, è evidente che questo documento scritto al singolare e senza alcun riferimento a veri cooperanti o volontari ma solo ai viaggiatori lascia supporre molte, molte cose che andrebbero approfondite. Cordiali saluti e auguri di buon Natale a tutti quelli che credono ancora a Cappuccetto Rosso e alla fata turchina ma buon Natale soprattutto a Malindi immaginando che quest'anno non arriveranno molti bagagli da 23 kg con la Ethiopian Airlines ma che in compenso sarà direttamente Babbo Natale con la Lappogna Airlines a portare body per i bimbi e prosciutto crudo per la pizzeria. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e ci vediamo al prossimo servizio.